Adotto una pecora è stata un'iniziativa in qualche modo provocatoria perché purtroppo l'abbandono della montagna è un fatto quasi ineluttabile e cercando di coinvolgere le persone più attente o sensibili a queste tematiche abbiamo pensato che era possibile condividere con loro le problematiche legate a questo tipo di allevamento, alle nostre scelte imprenditoriali. Naturalmente noi alleviamo una razza molto rustica, antica, ormai in via d'estinzione come la razza sopravvissana proprio perché è un animale estremamente frugale che riesce quindi a utilizzare in maniera eccellente anche i pascoli seppure abbastanza poveri di questo territorio. Di conseguenza essendo molto poco produttiva abbiamo dei costi di produzione piuttosto sostenuti ma è necessario continuare a allevare in questa maniera tradizionale proprio perché la montagna richiede l'utilizzazione delle risorse naturali. Difendere queste tecniche di allevamento estensivo significa garantire quella biodiversità, quella tutela del territorio che è assolutamente necessaria anche per proteggere proprio gli insediamenti urbani anche dei piccoli piccolissimi paesi come quelli che caratterizzano il nostro appennino centrale e quindi ecco il vantaggio per il genitore adottivo che naturalmente sottoscrive un vero e proprio contratto a norma del codice civile come acquisto di bene futuro ha la possibilità di ottenere innanzitutto prodotti biologici di assoluto pregio sia per la qualità della trasformazione per lo più biologica sia proprio anche per il valore nutrizionale organolettico che questi prodotti garantiscono a prezzi naturalmente d'ingrosso che favoriscono proprio il sostegno di questo progetto. Hanno ancora sconti sui soggiorni agrituristici, hanno la possibilità di degustare in diretta questi prodotti presso il nostro punto ristoro e hanno anche la possibilità di prendere parte a tutte le iniziative legate alle diverse fasi dell'allevamento come i laboratori di trasformazione del latte, possono fare corsi di aggiornamento e di conoscenza proprio di cosa significa coltivare biologico e naturalmente accompagnare le proprie beniamine quando si trasferiscono all'alpeggio, anche tornando in modelli di vita e di lavoro assolutamente autentici e assolutamente sostenibili. L'iniziativa che abbiamo avuto il privilegio di vedere pubblicata sul New York Times ha raggiunto persone interessate da tutti e cinque i continenti, tant'è vero che abbiamo la possibilità proprio grazie a internet di raggiungere qualunque parte del mondo. Il modello adotta una pecora ha rappresentato una buona prassi per tanti altri agricoltori e allevatori che hanno utilizzato questo stesso percorso per garantire alla propria attività un risultato economico soddisfacente. Tanti ci hanno detto perché non brevettare un'idea così geniale, ma in realtà per noi la maggiore soddisfazione è stata proprio quella di rappresentare una pratica da imitare. Naturalmente per noi è stato anche un elemento d'orgoglio che fra i genitori adottivi annoveriamo personaggi anche importanti, almeno per la nostra storia recente come Renzo Arbore fra i primi, Mogol, quando hanno girato anche un film partendo appunto da Anversa degli Abruzzi abbiamo avuto anche l'opportunità di far adottare una pecora a Raul Bova piuttosto che alla Cortellesi e quindi ecco è un modo anche questo di avere un sostegno da parte di personaggi che sicuramente sono come dire opinion leader in qualche modo e che quindi sostengono a pieno titolo queste iniziative. Abbiamo avuto dalla CNN, la BBC, televisioni emittenti che hanno parlato di questa iniziativa e hanno sicuramente contribuito a una grande diffusione di questo semplice sistema di gestione tant'è vero che oggi si alleva, si adotta un po' di tutto, ecco dalle piante d'olivo, agli agrumi a altri soggetti che sono parte di allevamenti zootecnici altrettanto genuini come il nostro. Quindi in qualche modo abbiamo rappresentato un modello virtuoso, il fatto di poter proporre un modello molto meno impattante dal punto di vista dei consumi rappresenta non soltanto una difesa della cultura passata ma sicuramente anche un buon modello per lo sviluppo futuro sia per noi che per i nostri successori. Grazie a tutti!